Prima di iniziare, vi invitiamo gentilmente a iscrivervi al nostro canale e a lasciare un mi piace. La figlia di Palombelli ha condiviso un toccante messaggio di addio sui social media, e ora entriamo nel cuore delle ultime notizie da News Mixup. Ma prima di svelare gli avvenimenti che hanno sconvolto il panorama, chiediamo il vostro sostegno. Un gesto semplice, come un mi piace a questo video e l'iscrizione al nostro canale, rappresentano per noi un segno di importanza immenso. Grazie di cuore per la vostra partecipazione. Emanuela Micheli, figlia di Carlo Palombelli, ha avviato il suo percorso formativo presso l'Istituto Santa Giuliana Falconieri di Roma, dove ha ottenuto una laurea in antropologia culturale. La sua carriera brillante ha preso il via presso la RAI, in particolare a RAI Radio 2, nel lontano 1979. Successivamente, nel 1980, ha contribuito alla rivista settimanale L'Europeo, e nel 1984 è diventata giornalista parlamentare. Durante questo periodo, Emanuela ha anche collaborato con Il Quotidiano Il Giornale sotto la guida di Indro Montanelli. Tuttavia, l'evento che ha profondamente colpito noi tutti è avvenuto durante il suo lavoro presso Mediaset, dove faceva parte del celebre programma, Forum. È stato proprio lì che è stata costretta a dire un toccante addio a una figura iconica della televisione italiana. Addio, ti saremo sempre grati. La tua bellezza vivrà per sempre dentro di noi, sono state le sue parole. Invitiamo calorosamente tutti voi a condividere le vostre condoglianze e a offrire una preghiera per questo grande giudice, considerato un padre fondatore del programma. Come riportato dal sito TV, all'età di 85 anni, anche Italo Ormanni ci ha lasciati. Quest'uomo è diventato noto attraverso il programma, Forum, inizialmente trasmesso su Canale 5 e successivamente su Rete 4. La conduttrice attuale di, Forum, è rimasta profondamente colpita dalla notizia della sua triste di partita.